ciao a tutti appassionati di anime e manga sono Alex come sempre invito a seguirmi qui su youtube, su instagram, su twitch e anche in mia gubottega per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione oggi andiamo a fare la recensione di l'orrore di Doom Witch edito da Gipo a prezzo 7,50€ a volume è uscito il box contenente tutti e tre i volumi della serie, disegno di Gotanabe storia originale di Lovecraft, quindi storia d'orrore Lovecraft, secondo me è uno di quegli autori che bisogna leggere almeno una volta nella vita cioè il richiamo di Cthulhu, tutto il ciclo di Cthulhu bisogna recuperarlo, anche questo ovviamente sono tre volumi che narrano la vicenda in un paese sperduto, il paese di Witch, nello stato di Manchester Susset all'inizio del novecento, circa fine 1910, all'inizio del 1920 e quasi tutto il 1920 23, 26 ecco quel decennio dove vedremo svolgersi delle cose molto molto particolari, gli abitanti di questo paese, paesetto, piccolo paese si conoscono tutti ovviamente e c'è una famiglia molto molto particolare che poi durante la storia sarà ditata come una famiglia di streghe e stregoni che lancia maledizioni, pratica magia nera e la figlia del capo stipite di questa famiglia resta incinta, nessuno sa per chi, da dove partorisce questo figlio, questo Wilbur che è molto particolare, ha un viso molto caprino se così vogliamo dire restano molto isolati nel loro, nel vago, sembra che parlano in un linguaggio tutto loro c'è una collina particolare vicino a questa cittadina dove fin dai tempi antichissimi si facevano dei riti, dei rituali di magia nera per evocare il demonio, questo quasi non è il demonio, sono gli antichi quindi chi sa bene il ciclo di Tulu sa benissimo dove vuole andare a parare e chi sono gli antichi in particolare Yog-Sothoth, che è un antico tra i più potenti e quindi vediamo questa famiglia che pratica appunto questa magia blasfema e il loro figlio Wilbur che cresce davvero alla svelta, molto molto alla svelta ha dentro di sé qualcosa, qualche segreto particolare così come tutta la famiglia e alla ricerca del Necronomicon, necronomico scritto in latino in originale e quindi ha la fondazione Arkham, l'istituto Misatonic University questa università ha questa coppia e quindi vuole avere la possibilità di leggerla per chissà chissà che cosa fare ecco, mi fermo qui, ovviamente molto interessante tutti i mani Locra questo fa parte ovviamente del ciclo di Tulu e mano a mano via via prosegue l'opera, come tutte le opere il ritmo diventa sempre più incalzante, sempre più coinvolgente i disegni Gotanabe rendono al meglio l'opera molto queste creature da incubo che vediamo che Gotanabe riesce davvero a farcele toccare, sentire vedere con mano l'orrore che ne scaturisce visivamente sembra quasi che sia qui anche il tanfo, come dicono tutti i personaggi di questo manga in certi momenti questo odore terribile, forte anche e soprattutto quando si avvicina a Wilbur che è lo stesso odore che c'è su questa collina particolare dove c'erano questi riti e come ripeto, come tutti i manga come tutti i libri di Locrafter è bellissimo è fatto molto bene Gotanabe riesce appunto ha fatto lo apprezzare ancora di più visivamente perché è difficile mi rendo conto che è difficile trasportare da un libro, da un romanzo soprattutto gli orrori e gli antichi del genere che sono solo descritti quindi non c'è qualcosa in natura che ce lo richiama ci possa farcelo ricordare cioè tranne come una cozzaglia di qualche essere un altro essere due o tre essere uniti insieme quindi Gotanabe è stato molto molto bravo devo dire la storia anche qua sempre vincente come tutte le storie finisce ma non è né un vero lieto fine ma è come qualcosa che è lasciato detto come qualcosa che fa riflettere il lettore è apprezzatissimo quindi se ancora non avete preso un manga un libro di low craft prendete approfittatevi perché vi innamorerete già dalla prima volta e poi vorrete recuperarli tutti io vi ringrazio se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video qui vediamo ai prossimi video Grazie.